Buonasera, benvenuta a tutti, c'è Gianmarco Tognazzi, ciao Gianmarco, ti ricordi quando abbiamo fatto i laureati insieme? L'ho detto adesso, parliamo d'amore Rocco. Stamattina ho avuto un appuntamento al buio, io non conoscevo lei, lei non conosceva me, non ha voluto nemmeno sapere come mi chiamavo, sai che mi ha detto? No. Dice, ti voglio anonimo, sai che io ho detto io, piacere, cancelletto, 31 cancelletto. Ascolta Rocco, tu di solito vai al cinema. Come no? La settimana scorsa sono andato a Lucinema a vedere un film che parlava di nostro signore, di Buddha e di Geova. E che film era? Un film 3D.